Raga, piccolo pre-video per annunciarvi che purtroppo oggi entrambi i video avranno dei problemi dell'audio perché lo vedete questo pallino rosso che lampeggia? Vuol dire che questo microfono è muto, vuol dire che quando ho registrato entrambi i video di oggi li ho registrati con microfono spento e ci sarà il microfono della videocamera che mi ha salvato il culo quindi sentirà un po' l'audio in modo strano, spero che non vi dispiaccia, farò questo pre-video in entrambi i video Lascia tanti like, ci vedete il video Bella, 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 bella Ciao Se avete scritto in titolo, li metto il cuoricino, quindi scrivete tanti commenti, esce tanti, tanti, tantissimi like ci viene di arrivare a 1500 dentro questa mezzanotte, anche se video di scene 9 so che ce la possiamo fare perché se siete tanto tanto bravi finisce tanti like Nel parkour di oggi ragazzi, come avete visto nel titolo, sarà una tutta quanta reversata, se così possiamo dirlo Siamo in questa bellissima mappa, creata credo da Sir Fishling, come lo scritto nel deathcounter, nel lato Molto semplicemente ragazzi, sarà un parkour al contrario, spero che comunque sia figo perché non l'ho ancora provato Ho visto la mappa direttamente online e ho detto, lo sai, devo farla subitissimo E poi ho notato che la roba delle mie formace è che sono reversata al contrario, mi piace davvero tantissimo Quindi credo che continuerò a farlo fino a quando la cosa non mi stancherà e inventerò altre cose per censurarle Startiamo a livello 1, però prima dovete lasciare un like in questo istante, se ancora non l'avete lasciato Lasciate un like e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto perché ho notato che molti di voi guardano i video ma non si iscrivono Quindi iscriviti se ancora non l'hai fatto e io direi, raga, visto che avete fatto tutto quanto, startiamo con livello 1 Allora, come vedete, noi raga, dobbiamo scendere con lo shift, quindi non dobbiamo saltare con la barra spazzisce Là in fondo c'è il bottone, quindi molto semplicemente, come vedete, ho la testa appoggiata al blocco Allora, tecnicamente qua, ok, ok, sembra semplice, raga, però poi dopo ho notato che, no, succede questo Cioè noi in realtà stiamo volando, quindi molto semplicemente c'è la cosa della fly che se non ti appoggi bene sui blocchi Poi inizia a scivolare più o meno ed è una cosa un po' difficile, vedete come mi scivola Allora, devo cadere direttamente su questo blocco qua, perfetto Urca, no, 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 ok, calma, 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 calma Direi dove posso andare, se scendo il più possibile riesco ad andare anche al secondo blocco lì No, no, perché devo sempre ostentare, porco due Ok, tac, madonna, sembra easy, cazzo, raga, però poi scivoli Calma, allora, uno Due, tre, quattro Cinque, prendiamo, 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 sei, 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 che bello E calma, ok, prendiamo questo, poi c'è da prendere questo doppio e andare lì Perfetto, ok, poi devo muovermi più velocemente verso di qua, ok Scendiamo ora, ok, calma Siamo quasi alla fine, calma, hype, hype a stella, proprio a mille Ok, urca Ok, ok, calma, Marco, calma, Marco Con molta calma ce la si può fare, raga, eh Con molta calma, che benessere Ok No, 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 non all'ultimo, non all'ultimo No, non all'ultimo Il problema è sempre questo ultimo, raga, cioè Sarò morta altre tre, quattro volte Il problema per me No, mi ha preso, non mi ha preso la shift Dai, oh, sai Prendilo, prendilo l'ultimo Sì, sì Allora, quindi andare lì sotto gli slab, va bene Ok, sì Sì, sì Livello 1 Wow, livello 1 fatto, raga, perfetto Yellow block added to the gallery What the fuck? Livello 2 Dov'è livello 2? Eccolo qua, livello 2 Ok, questo qua è sempre con i blocchi di clay rosa Un po' più impestato questo, raga, eh Un po' più difficilotto Però quando poi capisci come funziona il tutto quanto Diciamo che ci prendi Uh, la vedo un blocco giallo In pratica, da quanto ho scoperto quando ho scaricato la mappa Tecnicamente per ogni blocco di clay c'è un suo effetto Se non erro, qua non ci arrivo Mannaga È difficile, raga Voi credete che sia facile, eh? Voi credete seriamente che sia facile? Ma in realtà non è così No? Porca trottola Sto già che vede a fare un funny moments Che due pallets Ok No, no, raga Sto qua è impossibile, è impossibile Arrivano di cacchio Che cosa ho aperto? Technic launcher, what? E fin qua ci arriviamo sempre, eh Oh, là Poi arrivano qua Poi scendiamo e cadiamo di testa Wow, Marco Stai fermo qua, stai fermo qua Poi scendi a... No, raga, è impossibile Raga, è impossibile È impossibile È fortutamente impossibile Ah, devo fare tutto quanto di fila Che più lo faccio in fila più scendo Ok, infatti l'ho fatto Quanto è vicino a questo? Ok, prendiamo comunque la discesina Ok Facciamo tutto quanto di fila al volo, raga Se ce la facciamo Eh, no, raga Quanto è lontano quello? Dai 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 Ma quanto lontano? Non ci arriverò mai Raga, non ci arriverò mai a quello Ma come è che... Non ci arrivo a quello? È proprio difficile le mappe Non posso trovarmi, no? È semplicissima, Marco Fai questa Non ci arrivo Devo farli di fila a questi, raga Eh, sono impossibili, cavolo Allora Andiamo Ok, uno Due Ok No, no, raga No, no, non è fattibile Non mi prende lo shift Mannaggia il cazzo Ok, madonna Come l'ho fatto con classe Questo, raga Proviamo a fare tutti quanti in fila Come ho detto prima Dai che ci arrivo Dai che ci arrivo Urca Di poco Di poco Di poco Di poco Più o meno ho capito come farlo E io che voglio strutturare tutto quanto in un solo episodio Mi prende lo shift, cazzo Manco fossi in un server Mi sto rincoglionendo Per vedere tutto quanto Minecraft è al contrario Ok, uno Ok, due Ok, tre No, no, raga Non mi prende lo shift Non mi prende lo shift Uno Due Sì 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 Stai fermo qua, Marco Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Calma Cerchiamo di capire un po' come sono strutturati gli altri Allora Uno Ok Madonna Come mi sono salvato all'ultimo Urca veloce Ok Marco stai Oh mio Dio Come cacchio mi sono salvato Uno Due Tre Quattro Cinque bottone Ok Ok Urca Con calma, Marco Ok, poi c'è questo Quindi ti metti un po' più vicino all'angolo Premi lo shift Sali qua Che hype, raga Ok Quello dov'è? È molto lontano questo Però è fattibilissimo Madonna come mi sono appoggiato No, raga Questo è troppo Ok C'è un altro blocchettino che non avevo visto Questo è difficilissimo, raga Questo è difficilissimo Qua c'è l'hype devastante Qua voglio minimo un like instant Se ancora non l'avete messo Ce la devo fare Per tre Due Uno Giù No, non ci credo No, non basta Io ho quitto dalla vita Ah, il checkpoint questo Madonna, raga Che belli i checkpoint Non lo sapevo fosse il check Raga, devo prendere in corsa Corro, corro, corro No Raga, proviamo a fare tutti in fila No, rimbalziamo ancora qua Ok Sì, 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 sì No, no, no Sì, sì, no Dai, dai No, no È impossibile, porca troia È impossibile Sì, sì 3, 2, 1 No, non mi ha preso lo shift Ancora devo smontare le sedie Io ogni cazzo di volta Orca, sì, sì, sì È proprio scritto Il livello 3 è completato C'è proprio scritto Guarda che bello Sì Allora Il livello 3 è completato Ci sono dei cosi veri Cosa sia Greenblocks will give you nausea What the fuck Ok, basta non toccarli Toccarli poco Raga Non è che ci vuoi tanto Ok 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 Orca Ce l'avevo così fatta però raga Qua ero molto in strafe Allora Speriamo di venire sopra Mi danno nausea Ok Levitation Ok Nausea infatti Ok Quindi meno li tocco Meglio è Esatto Questo qua dove arrivarci Questo qua Puh Sono un tremone Raga Da fare tutto quanto in strafe Secondo me Più No Non prende lo shift Porco zio Oh Finalmente Togliamoci sta cazzo di No Quanto mi dura La nausea Quattro secondi Tre Togliamocela perché Per la prima volta ce l'ho fatta arrivare qua Quindi C'è il check vicino Andiamo Urca Sì ce la faccio Ok ce la faccio Poi il check è qua vicino Quindi Ok Check preso Check preso Check preso Quindi Tac Ce la facciamo continuare ad andare avanti Ok Questo qua è un po' Un po' trappola Perché c'è chi magari punto Andare direttamente al verde qua Invece Prima bisogna passare da quel blocchettino là Vabbè C'è il check vicino C'è il check vicino Non è del tutto impossibile Questo pezzettino qua eh Rispetto al resto Della mappa Ok Tac Perfetto Poi Andiamo ancora su questo verde Ok Tac Ok il verde qua sotto Velocissimi Bravo Marco Lino Però non posso camperarmela qua sotto Cacchio No No Madonna che culo Questo qua l'ho preso a casissimo raga Ok Ok poi c'è il Torniamoci la nausea Calma Non me l'abbiamo preso lo shift Madonna Santissima Vabbè raga sono in strafe Raga Sono in strafe Minchia Che ansia Ok Urca Ok Or Ok No Ok Ok Si 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 Cavolo Boh Raga Credo che per questo video qua sia tutto quanto Se volete proseguire questa mappa mancano ancora due livelli C'è due livelli finali che sono davvero molto difficili Lasciate tanti like e tanti commenti Iscrivetevi al canale se ancora avete fatto Se arriviamo a 1300 mi piace Domani mattina alle 11 O domani alle 7 O alle 9 Vi porto alla fine di questa mappa Perché davvero è una cosa pazzesca Lasciate tanti like e tanti commenti Iscrivetevi al canale se ancora avete fatto Anche tutto bene